ehi ciao scottex dieci piani di morbidezza nella versione bianca e rosa decore e ora c'è una grande novità la nuova confezione dieci rotoli salvaspazio la morbidezza compatta nel nuovo rotolo che premi e torna tondo scottex dieci piani di morbidezza anche nella confezione salvaspazio mamma se bevi solo sì sì che amari rosso soda è sì che amari un pensiero tipo shake giocalo con me sì che amari con tanti sì con tanti sì oh baby self si capari si capari ed ongola le gambe il ritmo giusto che mi dà e gira questo istante capari da soda sì capari sì Marco ma mi ami ma quanto mi ami e mi pensi ma quanto mi pensi oh scusa scusa un'altra telefonata aspetta ciao Andrea mi ami e quanto mi ami avviso richiamata informati al 187 allora ciao Andrea e ciao ciao pronto Marco mi ami ancora sì ma tanto quanto proteggere è un istinto primario nuova tipo tre porte barre laterali scocca rinforzata ABS airbag e cinture pretensionate nuova tipo tre porte nata sicura all I know is what it is keep on jamming jamming all I know is what it is keep on jamming 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 no